Ai bambini e agli adolescenti qui è stata tolta la scuola, per ignoranza e odio. Lettera a una professoressa, 6 giugno 2024. Cara professoressa, vogliamo dedicarle questa lettera per ringraziarla di tutto ciò che ha fatto per noi, tutto l'aiuto che ci ha dato per le belle esperienze passate insieme e per esserci stata accanto nei momenti difficili. Per noi è stata un punto di riferimento, che speriamo di avere ancora nei prossimi anni. Sappiamo di essere difficili, talvolta insopportabili, ma grazie a lei abbiamo imparato a gestirci e abbiamo imparato dai nostri errori. Se pensiamo a come tutto è iniziato, fino ad adesso non possiamo far altro che ringraziarla. Grazie a lei e ai progetti da lei organizzati, anche quelli un po' più noiosi, siamo riusciti a conoscerci meglio. Noi speriamo con tutto il cuore di poter condividere altri bei momenti con lei nei prossimi anni e speriamo che nonostante tutto lei riesca a vederci crescere e maturare. Grazie di tutto, le vogliamo bene, la sua amata classe.